Musica Da Alfredo Mietti a Pier Stefano Fiorelli, da Roberto Borgiani a Giorgio Bartolini, la Confesercenti di Pesaro e Urbino cambia guide e l'avvicendamento è avvenuto nella consueta cerimonia che si è tenuta nei giorni scorsi a Pesaro. All'Istituto Alberghiero si è svolto il congresso provinciale di Confesercenti che, come ogni cinque anni, vede il rinnovo delle cariche ed è l'occasione per fare il punto su temi importanti per il territorio, le politiche europee, le politiche per lo sviluppo e in particolare il sostegno ai consumi, la riduzione fiscale e la riduzione costo lavoro, la digitalizzazione del mondo amministrativo e imprenditoriale. La mattinata si è aperta con una tavola rotonda fra il professor universitario Tonino Pencarelli, l'ingegner Domenico Fucili, il dottor Saverio Tani e Claudio Alboretti, presidente Confesercenti Marche. Ha coordinato il giornalista Franco Elisei. Sono state inoltre premiate le imprese più fedeli e quelle più giovani. Pier Stefano Fiorelli è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti. Quali i punti salienti del suo programma? I punti salienti di un programma che andrà a fare il presidente di un'associazione come Confesercenti ce ne sono, ce ne sono tanti perché al di là di quello che è stato fatto negli ultimi anni so che in futuro ci aspetteranno tante battaglie da fare e sono sicuro anche che le andremo a fare con tutto l'entusiasmo con il quale abbiamo lavorato in questi anni e lo faremo con tutte le nostre energie possibili. Sappiamo tutti quali sono. Inutile stare a parlare come sempre di crisi. È uno di quegli argomenti che non mi piace assolutamente ormai trattare. Dopo tanti anni è una crisi che ormai ha colpito tutte le nostre imprese del territorio soprattutto, del territorio marchigiano. Io vengo da Fano, perciò in questi anni ho vissuto la crisi in modo diretto, stando sempre vicino ai nostri associati, vicino alle piccole e alle medie imprese, perciò sappiamo benissimo che dopo dieci anni ormai è inutile continuare a parlarne, sappiamo anche che difficilmente se ne verrà fuori. Abbiamo tutti l'obiettivo di essere vicini comunque ai nostri associati tutti i giorni, seguirli in tutte le loro problematiche, quelle che sono le problematiche di tutti i giorni. Sappiamo che in futuro dovremo essere vicini a loro per quanto riguarda soprattutto il tema dell'occupazione. Questo è uno dei grandi temi e naturalmente quando si parla di occupazione dovremo stare vicini a loro perché non è mai cambiato il mondo del lavoro, non è cambiata le leggi sul mondo del lavoro e siamo rimasti un po' indietro. Perciò chiederemo in futuro che venga rivisto tutto quello che riguarda la tassazione soprattutto del mondo del lavoro. Poi avremo tante altre cose a cominciare dall'IVA, Confesercenti si è sempre schierata in prima linea contro l'aumento dell'IVA perché sappiamo benissimo che anche questo non favorirà i consumi, chiaramente l'aumento dell'IVA anzi ci riporterà indietro per quanto riguarda i consumi. Avremo come sempre abbiamo portato avanti le nostre battaglie sulla grande distribuzione, sull'argomento grande distribuzione organizzata perché comunque siamo sempre stati contrari a un ulteriore perché siamo comunque tra i primi nel nostro territorio e tra i primi in Italia come diffusione della grande distribuzione. Perciò è chiaro che nei prossimi anni saremo sempre più pronti a combattere questo tipo di cosa. Perciò ecco ci sono dei grandi temi, sappiamo tutti quello che è la tassazione alle imprese, oggi siamo il cuneo fiscale, un altro grande argomento sul quale andremo a trattare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Oggi le imprese hanno una tassazione che arriva addirittura a sfiorare il 70%, non è più possibile mantenere un dato di questo tipo. Perciò ecco ci sono dei grandi temi che poi senza parlare, senza parlare delle problematiche locali, la nostra regione sappiamo benissimo che da un anno a questa parte soffre tutte le conseguenze del terremoto, perciò benché noi siamo nella provincia di Pesaro ne abbiamo subito, ne stiamo subendo tuttora delle grandi conseguenze perché comunque proprio in questi giorni siamo stati a Urbino a parlare con i nostri albergatori, con i nostri operatori turistici e la situazione è veramente drammatica. Una città come Urbino, una delle capitali d'arte europea, sta soffrendo un calo di presenze sulla città di quasi il 75%. Sono dati non solo allarmanti, sono dati molto forti che fanno pensare e ci fanno anche un attimino valutare quali potrebbero essere i rimedi a questa situazione perché comunque dovremo farci sentire, dovremo essere presenti. Naturalmente Confesercenti come tutte le altre associazioni ma anche come impresa che dà servizi soffre anche, anche noi soffriamo per questo tipo di crisi perché quante imprese hanno chiuso negli ultimi anni, quante imprese sono state costrette a chiudere, quanti imprenditori hanno mollato e anche qui Confesercenti sarà presente per fare in modo che venga un attimino ripreso queste grandi tematiche sia nel nostro territorio ma anche a livello nazionale. Giorgio Bartolini è il nuovo direttore provinciale di Confesercenti e il convegno odierno parla proprio delle politiche locali. Esattamente, anche perché fare impresa negli ultimi decenni è cambiato sostanzialmente. È diventato molto più difficile, la crisi ha messo in evidenza anche i limiti di alcune economie ed è costretto a cambiare mentalità. Questo in primo luogo ha investito anche associazioni come la nostra che fanno servizio all'impresa come obiettivo primario. Noi lo vediamo anche soprattutto nelle nuove imprese, nei giovani che si avvicinano all'attività professionale e qui ci sono dei dati allarmanti perché il 40% delle nuove imprese nell'arco dei primi cinque anni non ce la fa. Quindi un'impresa su due nuova non riesce. Questa è la grande scommessa, quindi bisogna anche utilizzare la crisi come periodo di cambiamento, cercare di capire, di intuire questi cambiamenti e orientarsi. E questa è la grande scommessa che avremo per quanto riguarda l'impatto locale, non è diverso da quello che è il fenomeno nazionale. Con la diversità che la provincia è molto attiva, noi abbiamo dei territori, dei settori economici come il turismo che hanno enormi potenzialità che ancora non sono state sfruttate. Sicuramente noi che abbiamo già investito tanto in questi anni, siamo stati protagonisti nella promozione sia dell'entroterra che della costa, continueremo ad investire cercando anche di capire quali sono questi cambiamenti e di supportare le aziende in questo senso. Roberto Borgiani è il direttore uscente di Confesercenti Piesero Urbino. Qual è il bilancio dei suoi cinque anni di lavoro? Sono di più, sono otto anni che faccio il direttore provinciale ed è un bilancio estremamente positivo, abbiamo preso l'organizzazione in un momento di difficoltà ed abbiamo attraversato insieme credo il peggior periodo economico del nostro paese, tutto quello che è stata la crisi economica finanziaria degli ultimi anni. e abbiamo traghettato in questo periodo e con le difficoltà iniziali un'associazione che è rispettata nel territorio provinciale, presente in tutti i tavoli di programmazione e di progettazione delle iniziative, una struttura che ha oltre 2.000 associati, oltre 1.500 imprese servite nel territorio, una settantina di collaboratori e dipendenti, quindi otto sedi distribuite nel territorio provinciale. Direi che con tutto quello che c'è stato e che la nostra economia anche a livello locale, anche a livello provinciale, ha attraversato direi un bilancio sostanzialmente positivo con la consapevolezza che ovviamente si può sempre fare meglio e meglio credo che riusciremo a fare anche nei prossimi anni perché abbiamo un'esperienza acquisita, abbiamo una platea di associati che ci vuol bene, abbiamo fatto sette assemblee prima di questo appuntamento provinciale e quindi credo di essere soddisfatto del lavoro che è stato fatto. Alfredo Mietti è il presidente uscente di Confesarcenti di Pesare Urbino, un presidente storico che ha terminato il suo mandato. Come è andata? Sì, ho terminato il mandato dopo circa quasi 20 anni di presidenza e era giusto che naturalmente ci fosse un ricambio all'interno dell'associazione. Sono stati anni molto intensi, anni in cui la Confesarcenti ha passato diverse traversie ma la grande soddisfazione è quella di lasciare un'associazione in salute, un'associazione che sta incrementando i propri associati, un'associazione che è presente sul territorio e soprattutto accanto ai propri associati. Un'associazione che si è evoluta nel tempo e che ha creato non soltanto quelle che sono i servizi classici di un'associazione, cioè i servizi agli associati per la contabilità o per il servizio paghe, ma ha creato anche altri servizi che in un mondo come quello del commercio che è in continua evoluzione saranno certamente utili ai nostri associati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.